32 mostre nelle piazze, vicoli e palazzi di Monopoli per due mesi dal 1 settembre al 1 novembre sono i numeri di feste, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte presentato nella sede della Presidenza regionale con istituzioni e partner. È un evento che va a dar forza alle bellezze della nostra città ma che dà anche la possibilità di leggere quei luoghi iconici e anche meno conosciuti di leggere attraverso la fotografia anche in modi diversi. Un museo a cielo aperto con artisti provenienti da tutto il mondo in primis Jan Fabre che porta a Palazzo Palmieri una statua di tre metri per riflettere sul tema di quest'anno, esseri umani. Una definizione che diamo per scontata, per immobile invece ultimamente viene rosicchiata di qua e di là soprattutto dall'intelligenza artificiale e dalle competenze che avevamo esclusive dell'uomo che piano piano vengono erose come quella per esempio che riguarda la creatività quindi intorno a questo nocciolo che pian piano si restringe noi continuiamo a crederci cosa significa oggi essere umani. Oltre a Trenitalia e aeroporti di Puglia la manifestazione si avvale delle collaborazioni di Università di Bari e dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico meridionale. Questa importante manifestazione offre un ulteriore attrattore al porto di Monopoli cosa che è importante ovviamente per chi gestisce questa infrastruttura arricchire l'infrastruttura anche di momenti culturali significa promuoverla al meglio io sto per partire per Hamburgo la settimana prossima sarò al Seatrade edizione europea e porterò un pezzo di tutti i miei porti e per Monopoli porterò anche il Feist Feist, Feist, Feist